Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale toscana e sulla strada di grande comunicazione FIPI-Li. In A1 per lavori di pavimentazione, la notte di lunedì 6 mars, in orario 22.06, sarà chiuso lo svincolo di Firenze Nord in entrata verso Bologna in uscita per chi proviene da Roma. Conseguentemente è chiuso il ramo di allacciamento con la 11 per chi proviene da Roma ed è diretto verso Pisa. In contemporanea sarà chiuso anche l'allacciamento tra 1 e 11 per chi proviene da Pisa ed è diretto verso Bologna. Per la viabilità cittadina a Firenze, in via Giacomini, per manutenzione interna di un fabbricato, strada interrotta da Piazza degli Antinori a Via delle Belle Donne. Muoversi in Toscana è un servizio collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana e comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!